I telegiornali, le sponsorizzate sui social network che dicono io sono il migliore, faccio tanti trade positivi, gli studi sui portafogli di investimento, insomma le informazioni non mancano, forse c'è un overload di informazioni, tutti che esprimono un parere. Questo è anche bellissimo, guardate per chi fa comunicazione molti dicono no ma adesso tutti parlano, tutti dicono quello che vogliono, in realtà per me che faccio questo tipo di attività è bellissimo, è davvero bellissimo leggere il commento di tutti, sentire come la pensano. Il problema è che poi, intanto coinvolgo Paolo Cardenà, consulente finanziario, buongiorno Paolo. Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Il problema Paolo però è che chi fa di mestiere la tua attività, ok tutte queste informazioni, spesso anche contraddittorie, perché c'è chi dice A, c'è chi dice B, ma questo è anche il bello della finanza, senza alcuna certezza matematica, perché anche questo è il bello della finanza, però poi tu ti presenti davanti a un cliente, no? La mattina con la tua valigetta, con il tuo computer, è quello che sta davanti a te, dice sì vabbè ma qui che facciamo? Dove mettiamo i soldi? Tenendo conto che la propensione al rischio degli italiani, io dico sempre che è zero, cioè la gente non vuole perdere, la gente non vuole investire e perdere, è proprio fuori dalla logica dell'investitore italiano, è proprio una sua caratteristica, non so quella degli altri paesi. Non a caso viene chiamato bot people, no? Forse mi dirai, se hai esperienze internazionali o ti confronti con altri operatori di altri paesi che fanno il tuo stesso mestiere, non so se è a Navaco, però io quello che è la percezione che ho, che la gente dice io investo dei soldi, voglio poco, magari anche zero, ma non è che ci voglio, investo e perdi i soldi, altrimenti me li spendo io, soprattutto questo ovviamente non la fascia altissima di investitori, ma soprattutto la fascia, quella intermedia. Allora Paolo, se sei d'accordo, innanzitutto andiamo a vedere che cosa è successo da qui a inizio anno e commentiamo insieme e poi capiamo che cosa si può fare, diciamo così. Ovviamente poi dipende dalle necessità finanziate, però il senso di questa intervista e questo confronto con te non è la soluzione dell'investimento, perché poi bisogna vedere che profilo di rischio ha, la solita storia, che esigenze di soldi ha, quanti soldi ha, che è chiaro che molto dipende da questo, se uno ha pochissimi soldi, eccetera, ai margini di manovra si riducono. Però vediamo innanzitutto quello che è successo, quindi ecco io faccio vedere in maniera molto brutale, diciamo. Eccolo qui, questo è il rendimento delle asset class da inizio anno e si va a vedere che chi avesse investito in materie prime, al momento starebbe guadagnando il 40,58%, quindi quasi la metà, che nonostante la riduzione del rame, la riduzione del petrolio, il gold che non parte, insomma, è un signor guadagno da inizio anno. Evidentemente le cifre stratosferiche da inizio anno, il trend di inizio periodo del primo anno è stato molto interessante. I paesi latinoamericani 22 e 21, i titoli di Stato 10 e 13, americani e loro 6 e 49. Innanzitutto qual è il tuo commento a questo primo posto delle materie prime? 40 e 58. Era facile da capire? Fagile a posteriori è sempre molto facile, no dirlo, a priori è sempre molto facile. Io ti dico che sì, la performance che hai elencato è effettivamente quella avuta dalle materie prime, ma sappiamo tutti come è andata a finire con le materie prime. Le materie prime hanno subito un paio di shock, direi, uno dal lato dell'offerta, senz'altro per via delle riaperture post-covid, e quindi per via di una asimmetria tra la domanda e l'offerta di materie prime, tieni presente che alcuni settori delle materie prime nel corso degli ultimi anni hanno sofferto, stanno soffrendo e continueranno a soffrire un sottodimensionamento degli investimenti, per cui la capacità produttiva sembra essere attenuata abbastanza strutturalmente, nel corso dei prossimi trimestri barra anni, e quindi probabilmente sono destinate a rimanere sostenute. È il caso, ad esempio, del petrolio, di tutte le energie fossili, e complice di questa dinamica, e anche oltre a tutto quello che conosciamo sulla guerra, quindi anche sulla simmetria esistente tra domanda e offerta, ed ecco qui le banche centrali che sono aggressive proprio per attenuare la domanda, eccetera, eccetera, un contributo notevole ai prezzi delle materie prime elevati lo fornisce proprio questa transizione energetica che i paesi occidentali stanno portando avanti, secondo me in maniera abbastanza frenetica e accelerata direi. Mi permetto di dire anche in opportuna, posto tutto quello che abbiamo visto durante il Covid e quello che stiamo vedendo adesso. Questo in poche parole che determina la transizione energetica cavalcata in maniera così violenta, rapida, determina semplicemente che le imprese operanti nel settore delle energie fossili sono disincentivate ad effettuare investimenti sulla capacità produttiva, ad esempio nell'esplorare nuovi posti, nuovi giocimenti, eccetera. Questo determina un rialzo delle materie prime che tuttavia è anche determinato dalla forte domanda che abbiamo avuto post-Covid. Questo per quanto riguarda le materie prime. Ecco Paolo, da un lato noi, se tu vedi, c'è un bellissimo grafico di Barclays che fa vedere tutti i rialzi delle materie prime, fa vedere che a un certo punto, diciamo così, dovremmo essere quasi all'apice, le materie prime dovrebbero aver raggiunto già un massimo. Questo è il primo ingrediente. Il secondo ingrediente, si è visto questo petrolio che ha fatto un box molto largo, molto grosso nel corso dell'ultimo anno, tra, se ricordo bene, 113, posso dare anche i livelli. Insomma, ha fatto una bella, una lunghissima congestione tra livelli importanti, adesso stava cercando di abbandonare i livelli, poi a un certo punto però l'Arabia Saudita, hai visto l'ultima riunione dell'OPEC, settimana di questa del 5 di settembre, l'OPEC ha detto, ha tagliato la produzione, ha fatto capire, ma prima ancora c'è stato un comunicato stampa, una presa di posizione all'Arabia Saudita, dicendo che non gli piace la volatilità, in realtà non gli piacciono i prezzi bassi. E hanno ridotto la produzione di 100.000 barili, hanno in parte frenato. Dall'altra parte Putin, fronte gas, ha chiuso completamente i rubinetti. Infatti, ecco, che cosa fare? Innanzitutto, off the record, tu avevi fatto una bellissima osservazione, che parte di queste attività che hanno fatto bei numeri, una parte è legata anche all'apprezzamento del dollaro americano, quindi in questo 40%, siccome le materie prime sono quotate in dollari, bisogna tenere il conto del dollaro. Ecco, ma che fare secondo te? Mantenere in portafoglio o, diciamo così, liquidarle? Ho visto le dichiarazioni dell'Arabia Saudita, visto quello che sta facendo Putin, mantenere in portafoglio. E se mantenere in portafoglio, però, ti faccio un'altra obiezione, te la faccio subito, prima ancora della tua risposta. Le banche centrali stanno scommettendo tutto, stanno mettendo tutta la loro forza per far abbassare il prezzo delle materie prime. Perché se no altro non si spiega e i paesi si sono immunizzati. Cioè, questa contesa che fare è io, investitore, che devo fare vedendo questa contesa? Resto fermo? Sono forse che si immunizzano da sole? No, non si immunizzano da sole, non si immunizzano da sole. Però noi abbiamo, abbiamo in questo momento, poche certezze, direi, sui mercati. Ma una di queste, una di queste l'hai appena citata tu, no? È l'esplicita dichiarazione da parte delle banche centrali, l'abbiamo visto anche a Jackson Hole con Powell, no? Che ha detto che la Fed si fermerà solo quando avrà portato a termine il lavoro. Quindi sostanzialmente Powell ci dice che loro avranno la meglio sull'inflazione a costo di far precipitare l'economia americana in una recessione e creare maggiore disoccupazione. Quando il presidente della maggiore banca centrale al mondo ti dice una roba del genere, secondo me ti ha detto più o meno tutto, no? Semplicemente, semplicemente vogliono raffreddare la domanda. Ora, l'intervento della banca centrale americana sui tassi, secondo me, ha più senso rispetto all'Europa. Perché? Perché i driver dell'inflazione negli Stati Uniti sono leggermente un po' diversi rispetto a quelli che guida l'inflazione dell'Eurozona, per il semplice motivo che l'inflazione negli Stati Uniti dipende oltre che dal caro energia, ma noi sappiamo benissimo che gli Stati Uniti dal punto di vista energetico sono sostanzialmente indipendenti, no? L'inflazione negli Stati Uniti è determinata da un eccesso di domanda come conseguenza degli stimoli fiscali e monetari post-Covid. E in Eurozona il discorso è molto diverso, no? Perché? Perché la domanda non è così vigorosa come lo è negli Stati Uniti e l'inflazione è principalmente mossa dall'elevato prezzo del petrolio. Quindi la tua idea è, c'era un vecchio adagio degli operatori che diceva mai mettersi contro le banche centrali, quindi secondo te è se il petrolio, per esempio, che è un principale driver importante, dovesse dare segnali di debolezza significativa, cioè fissarsi dei livelli al di sotto dei quali andare a liquidare, perché è un peccato perdersi sto 40%. Ma esattamente questo, esattamente questo. Guarda, io mi aspetterei un paio di cose innanzitutto, no? Probabilmente avremo una recessione abbastanza severa in Eurozona, avremo una probabile recessione anche negli Stati Uniti. E questa roba qui, cioè, malconcilia con delle posizioni abbastanza aggressive, uno sul rischio, due sulle materie prime. Premesso che io penso che probabilmente nel corso dei prossimi anni noi avremo mediamente dei prezzi delle materie prime energetiche strutturalmente più elevati rispetto a quelli che abbiamo avuto nel corso dei dieci anni passati. Ma proprio per via della sottocapacità di investimento delle aziende operanti nel settore delle energie fossili, di cui accennavo in abattura. Quindi questo, Paolo, che cosa vuol dire? Che tu non credi che l'OPEC possa tirare ancora di più la corce, oppure anche se la tira comunque viene giù. Nel senso che se loro dicono a questo punto taglio della produzione di 300.000 barili al giorno o non credi nemmeno che la chiusura del Nord Stream 1 a titolo definito possa portare a un aumento del prezzo del gas indefinito? No, sicuramente non lo porterai in via in definitiva. Per quale motivo non lo porterai in via definitiva? Tu prima hai citato un adagio, no? Non combattere la fedda, no? Io te ne cito un altro. C'era un economista che diceva che la miglior cura per il prezzo del petrolio elevato è il prezzo del petrolio elevato, no? Per il semplice motivo che il prezzo del petrolio elevato genera inflazione, sottrae le capacità di acquisto ai consumatori, di conseguenza i consumatori consumano meno e quando consumano meno diminuiscono i consumi e quindi diminuisce anche il consumo del petrolio e quindi scende il prezzo. Quindi la mia posizione è un pochettino questa. Se vogliamo essere tattici, io direi che non mi sembra un ambiente ideale per detenere molto rischio dentro i portafogli, soprattutto lato equity e direi anche materia prima e se vogliamo avere una visione invece strategica, io penso che nel corso dei prossimi anni il prezzo delle prime sarà destinato comunque sia a rimanere abbastanza sostenuto per via di tutto quello che ho detto in apertura. Va bene. Allora, quindi, diciamo sì, sintetizzando, diciamo sì, se dovesse abbandonare, se questo 40 e 50 comincia ad essere eroso in maniera significativa, conviene in maniera prudente andare a liquidare alcune posizioni e dirottarle o dall'altra parte o mettersi in liquidità. Senti, siamo d'accordo su questo? Direi di sì. Secondo posto, c'era una roba, allora, implicitamente mi ha anche detto praticamente che quelle percentuali negativo che vediamo sotto, che sono di tutti gli azionari, medie e piccola capitalizzazione, DAX, Italia, meno 19, diciamo così, sull'azionario, quelle, diciamo così, non è buono andarle a comprare a prezzi minimi, bisogna ancora aspettare. Tra l'altro ce l'avamo lasciati proprio l'ultima intervista che dicevi, guardate che si torna di nuovo giù e in effetti una bella botta all'ingiù l'abbiamo già data. È soddisfacente, e quindi confermi che è inutile andare a comprare adesso, bisogna aspettare ancora che sfoghi un po' il ribasso? Secondo me sì. Ok. Secondo me sì. Sì sì sì, tirò chiarissimo. Tra l'altro però, nel contesto azionario, chi ha investito in un fondo azionario americano, un ETF, azionario emergenti latinoamericana, sta facendo il 2221. Qui ci vuole insomma, era difficilissimo andarlo a beccare questo. Beh, guarda... Che ragionamenti dovevamo fare per beccare questa roba qua? Guarda, i ragionamenti che dovevamo fare... Guarda, allora, ti dico subito, per portafogli retail non è così semplice prendere esposizione sulle materie prime, no? Per quale motivo? Perché investire sulle materie prime significa investire sostanzialmente sui future delle materie prime, lo possiamo fare attraverso degli ETF, tranquillamente, ma noi ci spostiamo a dei fattori di rischio tipo il contango, il roll over e quant'altro. Esatto, esatto. Però il 40% lo stiamo facendo qua. Anche questo è il 40% lo stiamo facendo. Lo devo contestare. Ora, no, il discorso è questo, no? Se noi facciamo delle scelte tattiche, no? Investiamo sulle materie prime, quindi facciamo un tatticismo all'interno del portafoglio, investiamo sulle materie prime utilizzando gli ETF, la cosa va benissimo, no? Quello che dico io è che le materie prime non possono essere investite strutturalmente all'interno dei portafogli attraverso questi strumenti, perché nel lungo periodo ne saremmo penalizzati per via dei fattori di inefficienza che gravano sull'investimento in questi tipi di strumenti. Quindi sostanzialmente quello che dovrebbe fare un investitore è trovare dei surrogati delle materie prime che ti consentano di investire, di essere posizionato sempre sulle materie prime, però non esponendoti al rischio tipico degli ETF che investono nelle materie prime. E uno di questi modi nelle materie prime è forse alle azioni di quelle società attive nelle materie prime. E qui il Brasile ha avuto un'ottima performance proprio perché è un paese esportatore di materie prime. E quindi è evidente l'azionario emergente in Latin America e qui ha ottenuto una buona performance che è in gran parte il riflesso della buona performance delle materie prime. Ci potevamo arrivare insomma? Beh, io strutturalmente non ho ETF che investono nelle materie prime sui portafogli. Non ce l'ho strutturalmente, ho dei surrogati e un modo come ti dicevo di surrogare l'esposizione delle materie prime è il settore e andare ad investire in quei paesi dove la componente di esportazione di materie prime è significativa. Io ti dirò un po' di più su tutto questo già anche la Russia però come sappiamo la Russia è uscita da tutti i benchmark forse un po' di corona norveggese qualche bond in corona norveggese anche va bene allora nella terza asset class comunque chi sta facendo buoni rendimenti quest'anno è tanto di cappello insomma è stato veramente bravo perché in terza posizione vediamo i titoli di Stato americani al che uno dice ma come è possibile i titoli di Stato americano sulla quella parte breve della curva dei rendimenti qualcuno potrebbe dire ma la parte breve della curva dei rendimenti comunque i tassi sono saliti in maniera significativa quindi io dovrei sto perdendo in realtà tra il tasso e il rendimento e il dollaro io mi trovo più di 10 e 13 da inizio anno qui che fare cioè se immagino che per azionare emergenti in materie prime va allo stesso ragionamento qui che fare la forza del dollaro perché qualcuno comincia a dire il dollaro è troppo troppo forte oggi stava facendo 142 contro yen e siamo ai minimi a 20 anni su euro che fare qui? dunque Giuseppe qui il discorso si fa molto più complesso perché la performance che tu hai citato dei titoli di Stato America a breve scadenza è tutta attribuibile come hai detto al cambio euro-dollaro dell'euro che si è svalutato e il dollaro che si è rivalutato nei confronti dell'euro ma il dollaro è un po' forte nei confronti di tutte le valute allora io penso questo io penso questo che questa debolezza dell'euro è una debolezza di carattere strutturale perché di carattere strutturale perché sostanzialmente con tutto quello che è accaduto da febbraio in avanti sostanzialmente è stato demolito il modello industriale che ha caratterizzato soprattutto la Germania ma non solo la Germania nel corso degli ultimi vent'anni che era un modello industriale che si basava sostanzialmente sull'acquisto di materie prime a basso costo dalla Russia ecco questo qui mi sembra che non sia più ricostituibile questo modello e quindi fino a quando l'Europa non si adeguerà ad un nuovo modello industriale probabilmente noi assisteremo a questa debolezza dell'euro la quale debolezza dell'euro è una debolezza che dipende anche dalla bilancia commerciale che è andata negativa dopo molti anni di attivo proprio per via dell'esplosione dei costi delle materie prime dell'energia quindi io direi questo un investitore che investe in titoli di Stato americani a breve scadenza si è avvantaggiato molto per via dell'effetto del cambio è evidente che anche qui anche qui non esistono posizioni diciamo strutturali su un trade del genere perché arriverà il momento in cui il momento in cui magari il dollaro potrebbe indebolirsi quando verrà risolto secondo me non a breve tutto il discorso energetico dell'area euro e qui che fare ma quello che fare sui titoli di Stato americano chiaramente dipende anche dall'approccio che avrà la banca centrale americana nel gestire l'aumento dei tassi e quindi è possibile che i tassi americani vadano ancora più in alto questo implica che probabilmente le obbligazioni a lunga scadenza perderanno sui corsi dei titoli sui prezzi dei titoli e vada a sé che arriverà un certo punto in cui la recessione negli Stati Uniti si farà abbastanza incombente noi non abbiamo memoria storica di recessioni che non siano state accompagnate a severi processi di disinflazione quindi io quello che mi aspetterei è che l'America se dovesse andare in recessione questo produrrà anche un processo di disinflazione abbastanza significativo tale per cui la Federal Reserve in un primo momento si fermerà nell'aumentare i tassi e poi probabilmente li taglierà ti sto raccontando tutto questo perché è evidente che via via che i tassi a lunga scadenza salgono negli Stati Uniti l'investitore potrebbe accumulare staranno facendo delle posizioni su duration di titoli di Stato americano in maniera tale di costituire un aging del portafoglio laddove effettivamente gli Stati Uniti dovessero andare in recessione e poi avvantaggiarsi della caduta dei rendimenti e quindi della salita dei prezzi quando si verificherà questo scenario quindi l'approccio che secondo me andrebbe eseguito in queste fasi qui e te lo dico con un disclaimer grosso come una casa è quello di accumulare duration sui titoli del tesoro americano posto il fatto che lo stiamo vedendo l'economia americana ha iniziato già a soffrire con se dovessimo perdere però se dovessimo perdere sul cambio però comunque può tutire beh guarda questa è una bella domanda innanzitutto l'investitore può ricorrere sempre ad investimenti a posizioni su etf che investono in tre americani a cambio coperto che tuttavia hanno un costo che tuttavia hanno un costo la seconda cosa la seconda cosa è che comprando duration comprando duration e ipotizzando che sia giusto il mio ragionamento ovvero sia che a un certo punto l'economia americana andrà in recessione la federal reserve sarà costretta prima a fare un pivot poi a tagliare i tassi i rendimenti che scendono e quindi la salita dei prezzi delle obbligazioni dovrebbero ottenuare l'eventuale l'eventuale discesa del dollaro qui discesa del dollaro non è un fatto singolo ma va preso sempre in modo relativo rispetto a qualcosa nel caso nostro rispetto all'euro il che significa che se l'economia americana cioè la raffreddore probabilmente quella ci avrà la polmonite ecco questo ci aiuta a capire anche quello che è successo perché se leggiamo per esempio un investimento in BTP tra l'altro è uscito proprio nei giorni scorsi la performance dell'indice Bloomberg Bond Aggregate che è l'indice di riferimento per molti bond anche sugli etf diciamo sia per fondi comuni investimento che per la prima volta in 40 anni sta perdendo oltre il 20% entrato in mercato orso un investimento prudente come può essere quante volte ci siamo sentiti dire che i fondi obbligazionari diciamo così non perdono ecco questo spiega anche quel meno 19 del BTP quel meno 7,14 del Bund la parte lunga della curva dei rendimenti tedesca corretto? ma guarda il rialzo dei rendimenti che c'è stato chiaramente parte dall'inflazione elevata e dall'uscita delle banche centrali dalle manovre espansive sull'Italia sull'Italia già è un altro fattore che incide sulla performance negativa che è l'ampliarsi degli spread creditizi rispetto rispetto al benchmark privo di rischio che è il mondo tedesco quindi sull'Italia agisce sia il fattore rialzo rendimenti per via della dinamica strutturale globale direi che sta attraversando i titoli di Stato ma qui c'è anche il fattore rischio Italia che ha inciso sulla performance così negativa dei titoli di Stato italiani tant'è vero che non so se ti ricordi l'ultima intervista che abbiamo fatto a fine luglio immagino tu mi chiedesti quello che io pensavo a proposito del BTP italiano io ti ho detto che insomma non non era un affamino in quel momento proprio declinare proprio declinare l'invito ad acquistare ecco perché siamo arrivati a una conclusione che secondo me e poi ovviamente vedremo vedremo diciamo così come si evolverà la situazione anche nel prossimo delle prossime interviste quindi questa è anche la bellezza della finanza che è una situazione dinamica che cambia cambia sempre però ecco l'idea l'idea di fondo è che se io facessi in questo modo e cioè continuerei a tenere le asset class che stanno sopraperformando però con un monitoraggio molto attento perché quando perdono iniziano a perdere quota switchare sui bond di lungo termine su duration lunghe americane o anche altre duration di titoli di stato e prendere diciamo così aspettare che arrivi il pivot sui tassi di interesse e prende e catturare il trade grosso diciamo così la posizione tattica consistente sarà quando le banche centrali saranno costrette a iniziare a ridurre i tassi di interesse e solo ad allora iniziare a riconsiderare le azioni sei d'accordo su questa conclusione io sono d'accordo con una precisazione tu hai parlato del termine switchare quindi switchare lascia supporre che esco da una parte dentro all'altra esco da una parte dentro all'altra io invece oserei dire oserei dire questo più che switchare costruire gradualmente delle posizioni lunghe sui titoli del tesoro americano a lunga scadenza perché è un discorso a switchare un discorso a accumulare posizioni accumulare posizioni via 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 che i rendimenti salgono per poi magari essere più incisivi e più aggressivi nell'esposizione una volta che avremo dei dati che si deteriorano in maniera significativa mi viene in mente il discorso della disoccupazione i dati sull'occupazione ma non so lì si deve la disoccupazione è quello che fa la differenza che è un indicatore molto ritardo insieme all'inflazione tra l'altro cioè nel senso che a questo giro molto più ritardo che altre volte o perché più atteso diciamo così una debolezza della disoccupazione però è una percezione di pancia la sensazione è che sia molto più in ritardo rispetto a altre volte guarda molto più in ritardo rispetto a altre volte forse io ti dirò una cosa che se noi prendiamo ma ti posso far vedere un grafico un attimo vai come no magari te lo faccio vedere un attimo che lo prendo ecco qua ci siamo quasi perché ti faccio vedere una cosa abbastanza interessante che è questa qui non lo trovo andiamo sul lavoro su un indicatore di recessione ecco qua ti faccio vedere questo perché condividi schermo condividi non so se tu vedi questo grafico vediamo tutti ok giusto questa linea rossa allora questo qui è un indicatore di recessione che si basa che si basa sulle regioni che degli indicatori che riguardano il mondo del lavoro è quello più anticipato rispetto perché è un dato che si aggiunge ogni settimana ogni settimana esattamente allora noi se calcoliamo la variazione percentuale del livello delle richieste di disoccupazione rispetto al minimo toccato nei 12 mesi precedenti viene fuori questo grafico qui che ci dice questo grafico qui che grosso modo le richieste di disoccupazione le ultime richieste di disoccupazione sono aumentate di circa il 50% rispetto al minimo toccato a marzo del 2022 che furono mi sembra intorno alle 164 mila unità adesso noi stiamo a circa 250 mila unità quindi grosso modo il 50% in più ecco quando c'è una variazione del 50% stiamo per entrare in recessione no storicamente è accaduto questo che quando si è assistito a una variazione così significativa l'economia americana o era in recessione o stava per entrare in recessione ok e in senso assoluto invece non c'è un numero non c'è un numero non c'è un numero quindi non è che se superi 300 mila i 400 mila no io ti direi io ti direi che il livello abbastanza compresso delle richieste di disoccupazione che abbiamo raggiunto a marzo possa giustificare un incremento percentuale abbastanza significativo senza che questo determini necessariamente una recessione ma non esiste un numero assoluto di cioè aumenta il 500 mila e dopo quanto tempo si è verificata la recessione? beh in alcuni casi c'erano già in recessione in alcuni casi dopo qualche trimestre non di più di qualche trimestre ma un due trimestre quindi una cosa abbastanza rapida però se pensiamo questa non è una chiamata della recessione americana no non è una chiamata della recessione americana però secondo me è un allerto osservare un set di dati molto più ampio se vuoi ti faccio vedere qualcosa no secondo me la direzione che sta percorrendo l'economia americana no no questo è abbastanza evidente con i PMI con i PMI soprattutto la curva dei rendimenti esattamente e io ti faccio vedere anche una cosa no poi ti se poi ti smetto di farti vedere grafici questo è il mio indicatore anticipatore sul ciclo economico americano no questo è un indicatore che ha anticipato tutte le recessioni che si sono verificate dagli anni 70 in avanti tranne quella del covid perché era da fattori esogeni bravissima se tu osservi questo indicatore ecco noi ci troviamo qui sul grafico qui si vede non si vede benissimo ecco qui sono gli ultimi 30 mesi dell'indicatore che ha puntato sta svoltando lo vedi ha svoltato e quindi questo suggerisce che il rischio di recessione anche negli Stati Uniti è molto elevato e ti dirò una cosa è evidente che se questo indicatore dovesse riprendersi probabilmente l'America eviterebbe una recessione ma io e lo chiedo a te qual è il catalyst no attuale che potrebbe in qualche modo favorire un'inversione di tendenza dell'economia americana una discesa dei prezzi delle materie prime il petrolio a 50 il rame e l'inflazione che torna sotto il 2 ecco è possibile questo? tutto è possibile ma la probabilità è molto bassa la probabilità ecco hai detto bene tu il prezzo del crollo del prezzo delle materie prime che avrebbe effetti positivi sull'inflazione che scenderebbe l'Europa non vuole mettere il tetto al 50-60 dollari al prezzo del gas petrolio al peso del petrolio russo però insomma fantastico fantastico noi europei siamo bravissimi se fosse così semplice va bene grazie grazie per essere Paolo vorrei aggiungere qualcosa qualche attività esotica tipo boncinesi eccetera nel ragionamento che abbiamo fatto no sulle asset class che hai elencato ce ne sono certe che hanno performato veramente molto bene e una di queste sono proprio i boncinesi che sostanzialmente sono veramente molto si sono dimostrati molto molto resilienti tuttavia c'è da notare che prendere esposizione oggi come oggi i boncinesi secondo me non è il massimo perché perché innanzitutto i rendimenti sono abbastanza bassi e quindi c'è un delta che si è aperto a favore dell'esposizione in titoli di Stato americani che è a favore dell'America e non più della Cina come lo è stato fino a qualche mese fa e poi c'è anche un discorso del cambio dollaro in bimbi ma anche euro in bimbi che probabilmente rende in via in prospettiva l'esposizione in bond cinesi meno attraente rispetto a quanto non fosse solo proprio grazie grazie per essere stato con noi ci aggiorniamo grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori andremo a vedere se dal punto di vista tattico è possibile fare qualche correzione bisogna rimanere su quella posizione che vuoi grazie ancora a te ciao